L'Esanet è un'opera imponente scritta da Nierno e pubblicata nel 2008 da Gallimard. A riprova del suo valore letterario gli è stato conferito il premio strega europeo. Gli anni, in traduzione italiana, è infatti un'opera unica che valica tutte le categorie critiche. Non si tratta di un romanzo, né di un saggio critico, né tantomeno di un trattato storico, ma è tutte queste cose insieme. Nierno riesce infatti a intrecciare alcuni episodi della sua vita personale, quali l'aborto clandestino e la storia di Francia dal 1940 ai giorni nostri. Gli anni infatti tratta della storia di una donna che nasce in un contesto operaio e che riesce ad arrivare ad uno stile di vita borghese e intellettuale. Facendo tutto questo, l'autrice riesce a spiegarci alcuni fenomeni sociologici tipici della Francia moderna. L'Esanet è un'opera molto coraggiosa, sia da un punto di vista contenutistico, perché ci sono riferimenti espliciti al corpo femminile, ma anche a tematiche politiche delicate come il terrorismo, ma è molto coraggioso dal punto di vista formale. Non c'è infatti un personaggio principale, non c'è una trama. Tutto il libro procede attraverso il tempo e attraverso delle immagini ed è scritto alla prima persona plurale. Noi dicevamo, noi pensavamo, si credeva. Lo stile di Nierno è talmente netto e preciso che arriva a raccontare una storia personale e allo stesso tempo collettiva che arriva dritta allo stomaco del lettore.